Abbiamo riunito tutti gli attori per dare un riscontro articolato su come è andata la progettazione corale e per stimolarli su un metodo di lavoro per certi versi nuovo e diverso che ci condurrà alla progettazione definitiva della proposta. Abbiamo visto dei fogli appesi, distribuiti così casualmente. Qual è questo metodo? Allora oggi le varie associazioni, enti e istituzioni culturali verranno suddivise per gruppi in base alle tipologie di proposte che hanno fatto, all'approccio culturale che hanno manifestato nei loro progetti per un momento che è un confronto ma anche un inizio di lavoro congiunto. Contiamo di far seguire a questo altri incontri dove man mano suddivideremo le proposte e le istanze, non solo per tipologia ma anche per tema, ma anche per pubblico di riferimento e in questo modo attraverso degli step successivi arriveremo alla proposta definitiva. Quando si partecipa a un bando o a una gara si pensa sempre di essere indietro rispetto alla scadenza, però insomma ripensandoci molto lavoro è stato fatto non solo dagli enti promotori e dal comitato ma anche dal sistema culturale di Mantova che si è impegnato a fondo nella consultazione, nella chiamata alla progettazione corale, ha espresso idee, progetti e spunti veramente interessanti per la costruzione di quello che sarà il progetto culturale per Mantova 2019. Quindi direi che dal punto di vista dell'elaborazione progettuale siamo a buon punto.